Ciao raga, bentornati sul mio canale youtube, ultimo video che vedrete da questa location milanese oggi vi porto il classico appuntamento con il game of the week che in realtà non è di questa week ma di quella precedente e oggi ci andiamo ad analizzare il match che c'è stato durante il primo torneo ufficiale della stagione tra principe e maestro un match per certi versi secondo me sorprendente che ha preso una piega del tutto inaspettata a mio avviso soprattutto, insomma, lo andiamo a vedere senza troppi spoiler e nulla, quindi ce lo andiamo a commentare insieme non avremo la solita lavagna tecnico-tattica che ho a casa perché purtroppo non ho il programmino però cerchiamo di andarci comunque ad analizzare per bene questo game quindi cambiamo la scena eccoci qua, dovremmo essere sul game ovviamente qua non ho tutte le comodità che ho a casa quindi video un po' più rustico, diciamo così primo possesso palla per il buon maestro che come potete vedere inizia a fare doppi passi con tutti i giocatori che gli capitano a tiro quindi in pieno stile bimbo danese, in pieno meta di quest'anno perché anche se è uscita la patch insomma abbiamo visto come comunque il doppio passo rimanga molto 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 efficace e vedete come è uno schieramento pressoché speculare infatti entrambi si vanno a mettere in campo con il 4-4-2 e in principio è una fase di difesa che è ottima è molto cangiante infatti riesce ad alternare momenti in cui esce molto alto avete visto con Gimenez ad altri in cui invece gioca tanto con i mediani che è esattamente quello che va fatto in tanti mi chiedete meglio essere passivi o più aggressivi no, la risposta che vi do sempre è quella di capire esattamente quando aggredire e quando invece rimanere un po' più attendisti diciamo così vedete come poi lui è molto molto bravo guardate come non schiaccia praticamente mai il tasto della corsa in fase offensiva e per cercare quelli che sono i buchi maestro invece è un gioco diciamo un po' più verticale che lo ha sempre contraddistinto vedete come cerca in maniera anche un po' frenetica queste imbucate centrali qui doppio passo classico con successiva finta di tiro anche questa classica combo per bustarsi a prendere campo che però purtroppo non sortisce l'effetto sperato e allora può ripartire maestro con molta calma guardate qui come il principe con questo switch preventivo su Varane riesce a chiudere perfettamente e a ripartire con quadrato palla per Valverde guardate come cerca subito lo scarico sulla punta per giocare poi magari un passaggio all'indietro e cercare il filtrante eccetera qui gran palla dentro ma altrettanto gran difesa di maestro che infatti vi voglio andare ad evidenziare perché guardate qui come principe si crea perfettamente lo spazio sfruttando questo movimento automatico del buon Neymar dentro l'area eccolo che arriva e guardate qui lui sta coprendo giustamente il buon Ronaldo per evitare il passaggio ma guardate la rapidità con la quale vandrà a selezionare Walker la palla giustamente ancora non è arrivata nei piedi di Neymar maestro ha già selezionato Walker quante volte vi dico che bisogna andare ad anticipare le mosse dell'avversario quindi poi qui diventa un 50 e un 50 ed è bravissimo maestro a recuperare palla perché Neymar lo sappiamo 5 piedi debole non sai se si gira a destra o se si gira a sinistra quindi la palla gli arriva maestro vi si avvicina perché Neymar spalla la porta costituisce una minaccia sì ma non così grande ovviamente come se stesse puntando la porta capisce che il movimento è sul piede destro e lo va a chiudere in maniera molto molto agile quindi gran giocata difensiva questa da parte di maestro che insomma recupera un pallone importante che gli permette di ripartire con quest'azione guardate qui sulla fascia che ha praticamente tutto il campo aperto e inizia quella che è la classica scaletta che abbiamo visto nel tutorial dell'attacco qui però a mio avviso sbaglia guardate qua si addormenta un po' perché una volta che lui mi fa questo passaggio all'indietro qui ha già quello che è lo scarico per me sul suo giocatore che mi sembra Neymar invece qua perde palla inizia questo movimento di doppio passo e qui già ancora il passaggio invece no va a cercare una zona interna del campo che è marcata dal suo Valverde e va il buon Valverde infatti a recuperare palla quindi diciamo che qua non se l'è giocata proprio ottimamente principe riparte con la solita flemma guardate come non clicca praticamente mai il tasto della corsa qua ottima giocata a lanciare Ronaldo ad attirare su di sé le marcature avversarie ma e poi per creare lo spazio sulla fascia però maestro è abile ancora una volta a chiudere inoltre vi faccio notare come il gameplay è veramente lento marcio sui server sui quali andiamo a giocare questo tipo di tornei guardate come la palla sembra praticamente non camminare qui ancora una volta maestro dritto per dritto mi sembra anche aver cambiato schieramento tattico mi sembra che ora si è disposto con il 4-2-3-1 rispetto al 4-4-2 di partenza qui gran giocata sulla fascia ma altrettanto ottima ed impeccabile la difesa di Daniele con il buon Gimenez che mi ha stupito veramente tanto a guardare le sue partite qui ancora una volta palla sulla fascia a cercare lo scatto per togliere gli uomini dal centro aveva cercato di far scattare anche il buon Bappé e il buon Neymar per togliere ancora una volta uomini dal centro però maestro non ha bocca e guardate qui come con molta 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 pazienza cerca l'imbucata giusta una partita che fino a questo momento possiamo definire di studio tra due avversari che sono sicuramente al top europeo se non mondiale quindi una partita che fino ad ora ha mostrato un gran rispetto tra i due qui maestro cerca questo passaggio ma Daniele era stato bravo a metterlo in fuorigioco inoltre vi faccio notare come la giocata che ha cercato da entrambi è sempre quella sulla fascia Daniele gioca sempre sulla fascia destra quindi va a cercare tantissimo quello Lozzano e poi eventuali scambi centrali maestro invece ovviamente gioca sulla parte speculare e sulla parte sinistra io ho visto fare ancora un'azione da quell'altro lato questo è un momento di volta per me di questo match e di questo best of 2 perché un grande campione non dovrebbe mai tiltare ma è quello che secondo me è accaduto esattamente in questo momento perché maestro mi parte dalla difesa con Pogba fa scattare Ronaldo e gli serve un filtrante perfetto guardate qui lui praticamente sceglie l'unico tempismo giusto per far sì che Ronaldo ricevesse pallone e non finisse insomma in fuorigioco o fosse accettato il passaggio quindi riesce a servire Ronaldo con questi filtranti che sono tipici di quest'anno si presenta tu per tu col portiere calcia, la palla finisce fuori in maniera atroce qui se proprio possiamo trovare il pelo nell'uovo di questa giocata possiamo dire che forse si poteva andare a calciare con il tiro a giro vedete qui lui nonostante Daniele ha mosso il portiere poteva tranquillamente provare la giocata del tiro a giro invece calcia di potenza e la palla termina fuori qui secondo me sono saltati i nervi al buon maestro perché questa era un'occasione ovviamente limpidissima dopo 30 minuti di studio e guardate un attimino qui cosa succede perché passa praticamente un minutino Principe ovviamente ha la sua azione di calcio d'inizio con la quale andare a ripartire si cerca la giocata per la prima volta dall'altra fascia quindi con Mendy palla poi dentro per Neymar facile facile il più facile dei gol con la palla che si va a insaccare con l'ausilio del palo e infatti se lo stava anche un po' cagando il buon Neymar quindi c'è stato anche un po' di brivido in questa giocata però questo vi ripeto per me è il momento esattamente di svolta della serie perché insomma Principe ha trovato l'azione dopo la rete qui ancora una volta guardate qui cosa succede vi dicevo vi parlavo di chiave di volta qui si fa giocare quest'uno due il buon maestro ok Daniele fa questa switchata ottima per andare a chiudere su Neymar ottima anche la switchata qui su Varane però io qui me la sarei giocata un po' più smart non sarei uscito a cannone avrei continuato a temporeggiare invece lui mi esce così qui praticamente guardate qua maestro aveva tranquillamente il passaggio dentro invece si fa cercare il doppio passo va dentro l'area e non riesce a concretizzare intanto si è messo anche 0.75 e non riesce a concretizzare contropiede del buon Daniele che sfrutta ancora una volta l'inserimento di Lozano sulla fascia per creare superiorità numerica filtrante fotocopia rispetto a quello di maestro di prima tiro a giro 2-0 quindi ragazzi è successo in due minuti l'inferno per il buon maestro ovviamente per noi italiani giuggì così ma da due occasioni limpidissime per lui si sono originati due gol di Daniele questo per tutte le volte che vi dico che alle volte i gol li prendono non perché si difende male ma perché non si riesce a finalizzare un attimo che magari si prende un contropiede in una zona critica del campo e succede quello che è successo in questo caso quindi 2-0 per Daniele che sappiamo essere ovviamente anche migliorato tantissimo in difesa nell'ultimo anno e quindi magari a maestro iniziano a saltare un po' i nervi e che diceva cavolo e adesso come faccio a recuperare questa partita visto che comunque quello che aveva tentato fino ad ora non era riuscito qui addirittura ha sfiorato anche la rete del 3-0 ma la cosa che vi voglio far notare è guardate la difesa di Daniele come è alta guardate Gimenez dove è praticamente sulla stessa linea di Gullit si è andato a sostituire praticamente al mediano qui si fa cogliere anche un po' impreparato il buon quadrato però guardate qua come temporeggia alla grande questo Gimenez fa un autoblock un intervento praticamente automatico veramente veramente degno di nota 45esimo quindi Daniele cerca di sfruttare il momentum dell'ultima azione però l'arbitro gliela va a bloccare quindi il primo tempo termina sul 2-0 per Principe intanto vabbè ragazzi perdonatemi se sentite un po' di rumore di background vedete passare persone ma avevo spiegato un po' la situazione ultimo giorno di Adidas Gaming Hub powered by Exceed per il lancio di ZX e insomma era l'unico momento per il quale potevo registrarvi questo video che deve uscire lunedì ovvero oggi quando lo state vedendo e adesso è sabato guardate ancora una volta sto Gimenez dove ha recuperato palla nella metà campo avversaria veramente super super aggressivo guardate la pazienza di Daniele che scambia tra i due mediani in maniera molto molto paziente al fine di cercare poi l'imbucata giusta per bucare l'avversario si mette ancora una volta in questa condizione di 2v2 con le punte e qua gran giocata per la rete che vale il 3-0 guardate qui con quanta pazienza senza mai schiacciare il tasto della corsa palla verso Neymar un doppio passo va a rientrare un altro doppio passo a prendere campo palla dentro per Ronaldo finta di tiro di prima e Ronaldo da lì col sinistro non può assolutamente sbagliarla quindi tanta tanta roba questa giocata ancora una volta di Daniele che si porta sul 3-0 sul sorgere del secondo tempo quindi un ulteriore colpo contraccolpo mentale per il buon maestro che inizia a tirare un po' a dritto vedete come cerca questo filtrante verso il suo Rashford che era in una posizione palese di fuori gioco vedete come ancora una volta Daniele cerca sempre la classica giocata guardate come non schiaccia mai ragazzi non schiaccia mai il tasto della corsa lui tutte le azioni che si crea se le va a creare semplicemente utilizzando gli sprint boost del doppio passo è una roba veramente incredibile la pazienza di Daniele che lo porta poi a trovare sempre quella che è l'imbucata giusta per andare a finalizzare senza troppi fronzoli senza troppa roba inutili orpelli eccetera gioco finalizzato sa quello che deve fare e lo fa alla perfezione guardate qua passaggi semplici sempre verso l'esterno palla che poi va nuovamente in fascia verso Mendy palla verso Hullet che però viene intercettato dal Gullit avversario guardate ancora una volta sto Varane doveva recuperare palla altissimo raga una difesa veramente al top vi devo dire di Daniele ancora una volta qua la giocata di Maestro chiusa dall'ottimo intervento di Varane e arriva la prima pausa di Maestro primi segnali di freve bollenti per il nostro amico francese perché Daniele lo sta dominando è lungo e largo tolte quelle due occasioni che come vi ho detto rappresentano un attimino la chiave di volta del match la partita mi sembra saldamente nelle mani di Daniele qua addirittura un erroraccio da parte di Maestro in fase di disimpegno perché qua ho che rimpallo vinto però qua questo passaggio non puoi farlo semplicemente non puoi farlo il passaggio che mi devi cercare è esattamente verso il portiere non puoi cercare un passaggio qua perché lo metti in difficoltà palla recuperata e insomma è facile facile poi l'appoggio per la rete che vale addirittura il 4-0 per Daniele che come vedete sta giocando con il 4-4-2 quello con i due cc intanto Maestro si gioca la sua pausa e ripartiamo dal punteggio di 4-0 dal minuto 63 con match che insomma è in totale controllo dell'italiano palla ancora sempre larga verso la fascia nella zona di Mbappé se gliela avesse data un attimino prima quel Mbappé sarebbe stato totalmente davanti la porta avrebbe dovuto finalizzare probabilmente il 5-0 guardate ancora una volta come gli ha recuperato palla praticamente gli era entrato in testa qualsiasi giocata il buon maestro andava a fare gliela anticipava senza pietà guardate qua qui Mbappé può solamente scaricare palla oppure alla peggio potrebbe tentare un doppio passo una roba del genere ma l'unica cosa che può fare qui è scaricare questo pallone lo fa qui continua giustamente a tenere selezionato Varane per evitare problemi ma poi arriva subito lo switch su Jimenez scapendo il passaggio qui in mezzo si mette esattamente sulla linea di passaggio e va a recuperare palla una partita veramente da God riparte poi subito col recupero palla alto che gli favorisce il contropiede con Mbappé buono il numero saggiamente decide di aspettare poi la palla è dentro per Neymar buono lo scoop turn qui forse poteva fare un pochino di più però comunque venne da una partita devastante e glielo possiamo perdonare un errorino del genere perché magari qua non è stato troppo non è stato troppo paziente intanto qua tenta anche lo scavetto però Ederson gli dice gli dice di no cross da calcio d'angolo addirittura cerca la giocata in mezzo con Maestro che aveva comunque fatto uscire il portiere come richiede tra virgolette il protocollo ma guardate i tiri in porta di Daniele che sono 6 e quelli di Maestro che sono 0 perché torta quell'occasione che Ronaldo ha deciso di tirare totalmente alle ortiche il buon Maestro non ha fatto più nulla in balia dell'avversario guardate qua come Daniele è libero di poter fare il suo gioco a limite dell'aria dopo passo palla fuori qui un'altra situazione super palla dentro verso Ronaldo che si gira e la calcia dentro per la rete che vale 5-0 addirittura ragazzi ricordiamoci che il Maestro è uno dei top 10 al mondo negli ultimi anni in maniera molto molto costante Daniele lo sta facendo sembrare insomma come se fosse il bimbo dell'acqua park che si butta in piscina con lo scivolo quindi tanta 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 roba quando manca quando manca ormai un quarto d'ora al termine del match ancora una volta palla verso Ronaldo a cercare la solita giocata subito su Mbappé Mendy sempre la solita giocata larga come richiede il 4-4-2 per aprire lo spazio centrale e servire poi la punta ottima qui la palla per Neymar rete addirittura ragazzoni miei del 6-0 tra l'altro con una composure incredibile a tirare sul primo palo e non sul palo lungo perché probabilmente non sarebbe riuscito a finalizzare in quel caso qui ancora ad infierire sull'avversario ottimo il filtrante verso Ronaldo qua il buon maestro faccio poter su Cristiano viene giustamente ammonito perché gli arbitri su FIFA su FIFA 21 funzionano poi il rigore che gli viene parato per quello che sarebbe stato addirittura 7-0 quindi insomma un risultato veramente atroce qua anche la palla maestro totalmente in panico buttato a caso in mezzo quindi rischiava ancora una volta il 7-0 ma l'autoblock stavolta salva il francese guardate ancora come ormai siano saltati tutti gli schemi maestro tira dritto come il peggio Argento 1 ovviamente per ridere in realtà contro il Argento 1 ma insomma uno stile di gioco che ormai ha perso qualsiasi connotato di professionismo sta tirando dritto pieno di rabbia è come se il principe fosse diventato il torero con il tappeto rosso e maestro fosse diventato il toro che quando vede appunto il colore impazzisce guardate ancora una volta la squadra di maestro come è aperta qui buono la palla dentro verso Cristiano ma purtroppo non riesce a raggiungerlo ancora una volta Ronaldo che si porta spasso mezza difesa guardate qui dove è uscito con sto Varane che sebbene Daniele le abbia fatte bene questa uscita di Varane in mezzo al campo è un po' più da tilt che altro palla poi verso Gimenez recuperata ancora la solita azione guardate come verticalizza con estrema precisione qui probabilmente ha perso un tempo di gioco con questo doppio passo avrebbe potuto fare sicuramente meglio però ci sta a tentare la giocata per mandare fuori tempo l'avversario qua intanto la palla che viene ancora recuperata da quel Gullit che in mezzo al campo è onnipresente è assolutamente onnipotente ancora una volta palla scaricata verso Mbappé sempre sul vertice alto di quel lato lì Daniele cerca sempre quella fascia con grande frequenza e match che termina sul 6-0 per quella che è stata una partita totalmente impeccabile da parte di Daniele insomma quindi veramente tanta roba tanti spunti perché questa partita vi mette in evidenza come la difesa alta paghi se fatta in un certo modo come la difesa alta vi permetta di poter segnare molto meglio piuttosto che fare la classica azione manovrata intanto abbiamo anche la presenza oscura del maestro Nupiagne e niente ragazzi Nupiagne lo diciamo a maestro che se poi andrà a perdere il ritorno 5-3 per un complessivo impietoso di 11-3 e a nulla ragazzi spero che questa partita vi sia piaciuta fatemi sapere che ne pensate nei commenti come al solito like e commento che sono cose che mi fanno bene iscrivetevi al canale che stiamo crescendo a bomba e ci vediamo ogni giorno in live sulla piattaforma viola ragazzi lo sapete un salutone and peace e ci vediamo e ci vediamo